Oggi sull'Amazon App Store è stata resa gratuita questa applicazione Let's Bowl Deluxe e volevo andare a fare un confronto con questa versione di applicazione full con la sua diretta concorrente PBA Bowling 2 la differenza nel prezzo è solo di 2 centesimi pensate ma provandole entrambi vi assicuro che c'è una grandissima differenza quindi confronto tra Let's Bowl Deluxe e PBA Bowling 2 entrambe la versione a pagamento quindi con tutte le caratteristiche che si possono avere le differenze sono tante iniziamo subito Let's Bowl Deluxe innanzitutto si apre in modalità verticale e presenta questa schermata iniziale possiamo andare subito a giocare vedere la tabella con ponteggi più alti quindi non è possibile utilizzare tasti fisici o sullo schermo per tornare indietro tranne quelli che propone l'applicazione in alcune finestre per esempio qui abbiamo visto che siamo tornati indietro in questo modo in altre invece vedete che fa difficoltà come per esempio questa di condivisione del punteggio cliccando su more appaiono queste tre voci quindi aiuto che ci spiega con delle frecce quello che è la schermata di gioco poi possiamo mandare un'email per richiesta di aiuto e about ci porta alla sezione al sito dello sviluppatore in questo momento io non ho la connessione internet quindi viene anche chiesto di attivare la modalità di punteggi quindi in un secondo momento di confrontare quelli da noi realizzati con quelli di altri giocatori con la stessa applicazione infatti viene usata questa piattaforma di condivisione dei punteggi quindi andiamo a cliccare su play now allora si può giocare solo in singolo da quello che ho visto fino ad oggi in alto proprio come nel bowling vero guardando il tabellone una parte dedicata ai punteggi sotto a sinistra vediamo i brilli rimasti in piedi numerati piano piano quando andiamo ad abbatterli scompariranno anche da questa finestra qui abbiamo la possibilità di uscire con un tasto sullo schermo oppure di abilitare o disabilitare i suoni che era una delle funzioni che trovevamo anche nella schermata iniziale la modalità di selezione dei colori delle palle funziona solo quando ce n'è più di una disponibile al primo livello, proprio quello più semplice, c'è solo quella verde e non viene fornita nessuna descrizione riguardo al tipo di peso, alla velocità eccetera eccetera ottima il livello di realizzazione grafico come potete vedere si vede proprio molto bene non ha scatti tenete presente che comunque questo è un tablet dual core la sensibilità del tiro mi sembra nettamente migliore rispetto all'applicazione PBA bowling che andremo a vedere in un secondo momento facciamo ancora un tiro perfetto in alto vedete il punteggio complessivo qui quelle che abbiamo realizzato in queste due manche ora è il momento di andare a PBA bowling allora qui l'applicazione si gestisce con lo schermo con la posizionata in questo modo le opzioni iniziali sono cinque sono posizionate presentate in questo modo dietro vedete un'anteprima del gioco fa vedere tante immagini che scorrono allora le impostazioni si presentano in questo modo e ci presentano ci permettono di scegliere il livello di difficoltà se presentare i messaggi di tutorial per cambiarli basta fare così quindi molto curato e veramente in modo notevole la parte di menu andiamo a vederle tutte anche in questo caso per attivarla basta sempre fare così e come ultimo bottone resetta alle impostazioni di default nel caso fossimo andati a toccare qualcosa e durante il gioco notiamo delle differenze che non ci piacciono abbiamo questa possibilità your profile mi permette di vedere tutti i risultati che ho raggiunto fino ad adesso ho anche la possibilità di modificare il mio nome e anche la scelta di con che mano tirare oppure se tirare con entrambi e questo influirà sul tipo di lancio change name player one io potrei cambiarlo ma ci sono tantissime cose da vedere quindi allora palle da bullying qui le come potete vedere sono di più e per ognuna ci sono delle caratteristiche diverse per esempio grandezza media il peso caratteristiche speciali nessuna nessuna punto di domanda nessuna nessuna e insomma di sicuro prima o poi qui di caratteristiche speciali comparirà qualcosa per il momento a livello base non abbiamo molto new game possiamo scegliere se giocare in singolo modalità campionato oppure modalità di campionato sparo andiamo a fare un esempio con la modalità di gioco in singolo allora la prima voce ci permette di scegliere il nome dell'avversario evidentemente questi sono personaggi famosi di questo sport la seconda il tipo di coppa e vedete che sempre scorrendo con la modalità di selezione di questo gioco ne comparino tante simpatiche per esempio questa con giaguaro quella con lo scorpione con lo squalo eccetera eccetera e come ultima voce possiamo scegliere il tipo di location quindi per esempio la tavola da bowling di las vegas tokyo eccetera eccetera quando abbiamo scelto clicchiamo su ball allora ricordate come si vedeva la wii della del gioco let's ball ecco questa è nettamente diversa allora appena aperta per la prima volta vediamo una breve descrizione tu puoi scegliere palle differenti per ogni volta che fai un tiro quindi a ogni tiro potremo scegliere una palla diversa tra quelle che abbiamo visto nella parte di indicata proprio ai mezzi di tiro qui vediamo player one che siamo a noi e il nostro avversario ok come ti dice ogni volta possiamo scegliere una palla diversa perfetto allora vedete qui la reazione è si sente che è più sensibile e sarà anche il fatto che sarà anche il fatto che vedete per esempio si vede riflesso sul palchè il palchè sembra proprio lucidato per riflettere quello che si vede sullo sfondo e ci viene detto che per lanciare bisogna fare uno scroll ovviamente nella direzione in cui vogliamo tirare regolatevi tenendo presente sia dove posizionarla a questo punto che effetto dagli e utilizzando l'accelerometro interno si può dare una spinta ricordo che nelle versioni precedenti purtroppo era anche possibile dare una piccola aggiustatina per esempio verso sinistra piuttosto che verso destra purtroppo nelle ultime versioni lo sviluppatore ha disabilitato questa funzione purtroppo io ci gioco da molto quindi ho notato questa differenza in basso piano piano vediamo i punteggi quello mio e quello dell'avversario che mi sono scelto facciamo ancora un tiro giusto di fare un altro esempio insomma a livello grafico e a livello funzionale ho la sensazione che come gioco mi dia molto molto di più andiamo a fare new game start new game questa volta facciamo spare challenge quindi tipo di coppa e location bowl e questa volta sono io che gioco in modalità singola e ovviamente devo raggiungere e passare dagli obiettivi in questo caso il mio obiettivo può essere di abbattere solo un birillo in altre modalità può essere qualcos'altro main menu facciamo l'ultima modalità dato che l'applicazione ce lo propone a differenza gli XBall ok allora tournament non ci fa scegliere nulla e si fa passo a passo l'applicazione sceglie qual è il primo campionato da fare e ci propone il tipo di coppa e la location ora a noi non interessa voglio ricordarvi come come modificare il livello di gioco perché perché si parte da di default lui è impostato su medium e possiamo spostarlo su facile piuttosto che su difficile questo è importante perché magari qualcuno inizia vede che con la modalità medium fa fatica e lascia perdere invece si modifica così feedback possiamo vedere la sezione about mandare un feedback quindi magari un consiglio dire nel mio modello ho questi problemi puoi risolverli eccetera eccetera e ci viene detto in una finestra che la nostra email non sarà utilizzata in altro modo tranne che per risponderci iscriversi alla newsletter seguici vieni a trovarci su facebook seguici su twitter visita il nostro forum o per ultimo contattaci quindi lo sviluppatore ha curato molto bene anche questa parte come sfondo sempre questa gradevole animazione della funzione del gioco ovviamente se vi piace il bowling lo gradirete altrimenti non è l'applicazione che fa per voi ce ne sono tante dedicate allo sport in modo da soddisfare i gusti di ognuno per androida.it il confronto tra let's bowl deluxe e pba bowling 2 al prezzo di 2 euro e 9 centesimi e 2 euro e 11 centesimi l'applicazione l'applicazione di 3 euro l'applicazione 2 euro la